E' un tirocinio nella fabbrica dove lavora papà. Non voglio entrare nel merito delle vostre questioni teologiche, ma la tua religione non ti può impedire di continuare gli studi. Ceresi, per favore, dille qualcosa. Frequentando l'università rimane pochissimo tempo per predicare. Ecco il nuovo acquisto. Speriamo. Il lavoro tutto ti piace? Mia madre mi ha detto che i testimoni del gioco non dicono bugie. Dica la verità. Mi fa schifo. Si vede. Giulia, siamo qui per capire che cosa ti sta succedendo. Chi è il ragazzo con cui sei uscita? Cosa facevate tu e lui quando eravate soli? Mi baciavate. Basta. Hai perso, sì. Ma vedi che Giulia vuole stare con me. Com'è che dite voi che da sto mondo è meglio stare a l'arca, no? Mi baciavate tutti torti. Amico, ci avete tutti torti.